Ehi, oggi ricomincia la Serie A. Ma tanto lo sai che fino al 31 agosto il direttore vuole che pensiamo solo al calcio marcato, quindi... Senti, senti... Milan-Udinese Sampdoria-Atalanta Lecce-Inter Fiorentina-Cremonese Lazio-Bologna Spezia-Empoli Salernitana-Roma Verona-Napoli Juventus-Sassuolo Oh, basta che mi sta facendo finire voglia di calcio giocato, lo sai che non possiamo Piuttosto fammi finire l'articolo che il direttore mi ha dato lo scambio quasi certo tra Vignali dello Spezia e Alexander-Arnold del Liverpool Alla pari oltretutto Oddio Senti, ma... Se ci provassi... A fare cosa? Senti, ma provo a dire al direttore se stasera mi manda a seguire il Milan Auguri Allora, è vera questa notizia? Sì, direttore, è un indizio clamoroso Direttore, scusi Cosa c'è? Siccome stasera, come sa, comincia il campionato, mi chiedevo se magari così potrei, diciamo... Potresti cosa? Seguire tipo Milan dinese? Non cominciamo col calcio giocato, eh? Ricordate che fino al 31 agosto il nostro unico e solo obiettivo è vendere e noi vendiamo con le notizie di calcio mercato e poi ho già chiesto a Gaetano di seguire la partita Milan, numero 4, Benagel, Benagel, numero 33, Cru... 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 Eh, io hanno il figlio Giorgio Ecco, allora mi mandi a seguire Lecce Inter o Monza Torino o Città della Pisa, la prego Basta fregnare che ci sono notizie più importanti Anzi, voglio farti un regalo Il nostro social media stalker ha appena scoperto un indizio social interessante, vero? Sì, direttore Io credo proprio che Griezmann andrà al Bologna Ieri ha pubblicato una storia di lui e la sua ragazza in un ristorante con davanti un piatto di tortellini È insolito mangiare i tortellini d'estate, così ho fatto due più due E allora che ne pensi? Che è una... mi intriga, mi intriga parecchio, direttore Anche se i tortellini storicamente può significare non solo Bologna ma anche Modena Giusto, bravo Teniamo questa doppia pista Il derby della secchia per Griezmann Ma io... Questo è il giornalismo che mi piace Occupatene subito Sì, direttore E ora tutti al lavoro, su Au, vuoi fare a cambio con Vignale Alexander Arnold? Stai zitto Sì, direttore Sì, direttore Sì, direttore